In realtà anche in questo caso, perché l'ultima operazione è stata fatta qualche giorno fa, dobbiamo riscontrare purtroppo una mancanza, non dico di collaborazione ma proprio di sensibilità, piuttosto c'è stato un tentativo in questo caso, in questa indagine, da parte degli estorti, dei commercianti sottoposti al pizzo, di tentare di risolvere la questione andando direttamente dai vertici delle organizzazioni, cercando di risolvere la questione con i vertici dell'organizzazione piuttosto che con chi era stato incaricato di chiedere il pizzo. Quindi da questo punto di vista, a mio giudizio, permare una situazione di scarsa sensibilità e di accettazione dell'imposizione di Cosa Nostra. Cosa Nostra in questo momento a Palermo, per quello che vediamo, sta cercando di ripartire dal controllo del territorio massivo. Il controllo del territorio massivo si fa con l'imposizione del pizzo, con le estorsioni. Abbiamo riscontrato nelle recenti operazioni una prassi ormai consolidata e una scarsa sensibilità di chi invece dovrebbe rivolgersi allo Stato per ottenere in qualche modo, per essere liberato da questo gioco. Vertici che venivano da condanne definitive, quindi si tratta di soggetti che hanno scontato condanne definitive. Aver scontato la condanna definitiva, quindi aver trascorso il periodo, aver pagato quello che dovevano pagare dal punto di vista della pena e quindi sostanzialmente la permanenza carceraria nel caso in questione non sempre aver consentito di recitare i legami con Cosa Nostra. È una valutazione che dobbiamo fare perché oggi ci avviciniamo a una fase importante. Gli strumenti che ci hanno consentito di colpire Cosa Nostra e che ci consentono ancora di colpire le altre organizzazioni criminali passano anche attraverso una gestione del carcerario che tenga conto della specificità dell'appartenere a una struttura mafiosa come quella che oggi abbiamo colpito e quindi direi che bisogna tenere presente che il sistema carcerario che ha degli istituti che ci consentono di essere più efficaci deve essere in qualche modo tutelato. Ma guardi, fa parte di questo metodo di assoluto controllo di qualunque tipo di attività economica e non anche sociale l'organizzazione ha inteso applicare. Con la fuoriuscita dal carcere di questi soggetti che hanno poi costituito il direttorio del mandamento sono cambiati anche i termini e le strategie operative per cui è stata fatta una scelta di colpire a tappeto qualunque tipo di interesse per amplificare la propria potenza e presenza criminale. Di Tarchesi è passati a sottoporre, a estorsione, a controllo anche situazioni che in precedenza non venivano considerate. C'è stato un salto di qualità, peraltro non condiviso ab inizio nell'organizzazione, nel gruppo, ma che poi è stato imposto dalla nuova leadership del mandamento mafioso. Noi riteniamo che vada proseguita questa azione di contrasto che parte appunto dal territorio perché in questo momento, voglio dire, ripeto, l'organizzazione mafiosa sta cercando di ricreare le condizioni per ottenere consenso e in qualche modo per acquisire capitale sociale ed è una cosa che dobbiamo combattere velocemente per poter poi in qualche modo pensare non solo di contenere il fenomeno ma di eradicarlo.